Beh inizio a fare i complimenti alla mia squadra che ha giocato un'ottima partita contro una buona Golbet, sapevamo di incontrare un avversario tosto, non perché si trova al secondo posto perché comunque ha fatto un buon campionato, ma la conosciamo da sempre, abbiamo fatto sempre un'ottima partita contro di loro, però non si capacita che ogni volta che agiamo contro di loro sia da parte nostra che da parte loro ci sono delle ammunizioni e espulsioni incredibili, parlo di entrambi ai lati, è una cosa che non riesco a capire, o ce l'hanno con questi colori o con queste due squadre perché non si riesce a capire, noi giochiamo, non ci tocchiamo e ci buttano fuori i giocatori sia noi che loro, non lo so. A parte questo devo dire che comunque ci sono state delle azioni nitide e dalle Lazio si possono tranquillamente vedere con Cesaro Ricci e lavorato, cosa assurda insomma, abbiamo urlato al gol perché comunque sembrava che era proprio entrato a tutti e tre i tiri e poi il grande Opara ci ha messo del suo, è stato un grande portiere, un grande amico, se ci fosse stato un altro portiere forse staremmo a parlare di un'altra partita, ma anche Peppe devo dire che ha fatto il suo, ha fatto una grande partita, loro quelle poche occasioni che ci hanno avuto, Peppe si è fatto trovare punto, mi dispiace l'ultimo gol, è una corambola strana, un colpo di testo a palombella finirà dentro, ma questo è il calcio, non ci possiamo fare niente, se ne andiamo a giocare giù da loro. Guarda, devo dire che il neo negativo per la Pisana è sicuramente Cesaro con Scibilla, queste due espulsioni che ci portano via due grandi talenti, ma se non ricordo male, e se non ricordo male, dalle ammunizioni penso anche Ferretti non ci dovrebbe essere, quindi la Pisana, non voglio dire che andrà rimaneggiata, sicuramente faremo venda alla rosa che abbiamo, metteremo in campo tutti i giocatori validi per andare a giocare questa partita giù da loro e vediamo come andrà. Non so qual è il periodo, se a fine campionato succederà questo, se è così io penso che noi ci andremo a giocare veramente da qualsiasi parte, perché se abbiamo notato bene, io penso che questo campionato, torneo, chiamiamolo come volete, è un qualcosa di esaltante e di livelli massimi, l'abbiamo visto tutto, tutti ci sono giocatori che partono dalla prima categoria e finiscono anche in zona Lega Pro, cioè è un gran campionato di alto livello, io penso che comunque due squadre o 16 giocatori di 15 squadre, un giocatore a squadra a reparto, io penso che esce fuori un mega squadrone, io penso che non ci dovrebbero essere problemi ad andare a affrontare altro che un mini campionato o quel che sia.